Amiche e amici di Endio Channel, finalmente vi do una bella notizia, Age of Wonders 4 sarà tradotto dall'Endio Channel Society, in particolare parliamo di Inverno Muto e parliamo di Piz, quindi loro faranno il lavoro, io sono semplicemente la persona che ve lo comunica e molto presto vi darò maggiori informazioni. Quello che vi posso dire è che anche se ci sono più di 70.000 string, quindi non riesco neanche a contare le parole, abbiamo già trovato un escamotage tecnico per mettere la base della traduzione e nel corso delle prossime settimane li lasceremo su Steam, una prima versione base, non ripulita, non veramente poetica però efficace per farvi giocare in italiano e poi la miglioreremo nel tempo. Visto che Piz e Inverno Muto hanno tradotto anche Humankind con l'Endio Channel Society, non vi deluderemo, quindi ragazzi stay tuned, anzi tenete le orecchie addrizzate in italiano, suona meglio, e rimanete sintonizzati, se volete altre informazioni andate sull'Endio Channel Society.